benvenuti ragazzi in questo nuovo video di rainbow six on the 250 e oggi andiamo a fare un'altra classificata sono oro 2 e sto a 2973 punti eccoci qua con la partita mappa costa puntiamo su questo che danno fastidio io devo sempre andare a una patina e direi di andare con un confinco un confinco trovate il contenitore di bioricchio questo è sicuramente strano sopra ah no invece no uscita strano strano ci sono dueci l'ora ok sono dentro del coso 5 secondi all'inserimento aia al cammler 5 secondi all'inserimento Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo Non fanno spunking per adesso Che vuoi andare? Povero, grazie Liberate l'area dell'esplosione Attivo l'incremento adrenalinico Me l'ho preso, ma non è morto Oh, bella Cos'è stata, è stata bella, ahia Che ti cominciò Questo è stato fermato Incremento adrenalinico in arrivo Attività nemica, neutralizzate la minaccia Prendete il contenitore di biorischio Attività nemica, tornate a utilizzare il contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Prima round Un quadro d'attacco a eliminare Allora andiamo a attico E ci prendiamo a blazing Barricate la stanza Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Un quadro d'attacco a eliminare Che barricate? Qualcuno che pari da là Volevo fare la spanchione Stiamo un po' fuori Anche se lei se non dovrebbe essere dentro Scansione nemica in arrivo Avvio del timer C'è uno che fa giù? Che sfida Vediamo se si affaccia qualcuno Qualcuno ti ha scoperto Non sanno dove sono Però da destra Eh ma stava con il Ce l'avevo dietro Stava vigile Cacca ne stava facendo vigile Boh vabbè Vediamo se riuscivano a vincere queste Da cacca ne sta vigile? Ok Un nuovo caricatore No Anche si muore L'hai visto? L'hai visto? Grande Secondo round Allora andiamo sempre qua Alla tua piscina Stavolta Stavolta ci andiamo Ehm Vabbè Vabbè Codocca è via Trovate il contenitore di bioricchio Vediamo se stanno in cuci Ok Non stanno in cuci Quindi stanno Saranno sicuramente sopra Infatti si Allora chissà che sarà qua Invece di perdere il drone Mettemolo qua Sento l'arma di caverja Eccola Raggiungete la posizione del contenitore di bioriscchio Assoggiamo la porta della camera Invece quella Ok Controlliamo il drone Non c'è nessuno Non sembra esserci qua Non so se è lì Non c'è nessuno Non c'è nessuno Ultimo uomo per la squadra alleata Ottenete il contenitore Nooo Non potevo farvi niente Non mi cambiava arma Squadra d'attacco eliminata Vabbè Questo non ci abbiamo fatto Allora andiamo in cucina E mi prenderei Jäger Dobbiamo proteggere il contenitore di bioriscchio Poi Poi Aspetta la Un'altra 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 Oh, quando ho da barricare? Hai gol! Quando ho da barricare? Mortacci vostri Oh, l'ha preso! Questo non è morto Vediamo se si riaffaccia Quanti fanno sano? Proteggete il contenitore di biorischio Impedite al nemico di prendere il contenitore Ah, questo qua non vuoi dare Resta solo un operatore alleato Il nemico si sta impossessando del contenitore In un istante Da dietro anche Missione fallita Difensori Allora, siamo sempre da qui Questa volta ci prendiamo Twitch Trovate la posizione del contenitore di biorischio Allora, spero, vi sfruggiamo questa telenovela Ben fatto Il contenitore di biorischio è stato individuato Sono messo in un cucina questo Ok, bene Scusa, doc Inserimento tra dieci secondi 5 secondi all'inserimento Non ci sono stati attenti All'altra camera di biorischio Raggiungete il contenitore di biorischio Ok 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 Mettimi là Dove che sta montando? Dove che sta montando? Dove che sta? Se non me lo dici dove sta? Nooo Non lo sta facendo Nooo Tu vuole Nooo Non ci vuole neppredere Per colpa di Montani che deve per forza pushare Questo ha qualche rumore Ci sono io, vicino a me Ok Tra due Ci ho postato Nooo Perché devi pushare lontani? Dai, ci ho portato a fare Da, vai dar un minuto's a frente Dà, vai dar un minuto's a frente ho Ah, finalmente abbiamo vinto un round, c'è un altro, il terzo round. Allora mettiamo la nostra, mandiamo il cucino nella nostra sala di pillard, ci mettiamo MUTE, speriamo che l'ultimo round, vado a fare di mettere MUTE. Ok, dove ho voluto capare? Rimangono 10 secondi, siamo a 5 secondi, il nemico non ha trovato il contenitore di biorischio. Il nemico ha trovato il contenitore di biorischio. Nooo, non possiamo inserire sotto questo, ok, almeno abbiamo dato gli equilibri. Ok. 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 Come sono stato scoperto? Sono sulle tue tracce. Stanno seguendo. Qualcuno ti segue. Ti hanno scoperto. Il nemico si sta impossessando del contenitore. Intervenite all'interno. Un operatore alleato rimasto. Adò? Io non lo vadevo, quello mi ha ucciso giustamente. Eh, perso. Si andrà a supplementare. Ah, proprio a caso. Allora, mettiamolo sempre qui. Eh, io ci voglio di nuovo di Twitch. Ok. Provate la posizione del contenitore di biorischio. Allora, andiamo a vedere dove si mettono queste. Cucina? No. Ora, distruggiamo queste tre camera. Sì, sì. Stanno qua. Oh, comunque non l'ho vista. Ecco. Vabbè, la tre camera basta quello di sotto. Ben fatto. Il contenitore di biorischio è stato individuato. Ancora dieci secondi. Cinque secondi. Ok. Raggiungete la posizione del contenitore di biorischio. Raggiungete la posizione del contenitore di biorischio. Ok. Che sta qui nella stanza. Ok. Allora, una roccia si lascia. Quindi, non ce ne sa. Ok. Combina entrare. Entriamo un po'. Dai, tutti si è fatti uccido. Non c'ho l'operatore. Prendete il contenitore di biorischio. Uovo caricatore. Uovo caricatore. Non sono difensore rimatto. Ah. Che fesso? Ben fatto. Ah, grande. Però non moriva questo. Noi. Ok. Vai. Ci rimane un altro round. Dobbiamo iniziare. Andiamo attico. Voglio prendere i... Lesion. Anzi, anzi. Prendo. Sì, sì, vabbè. Vai. Vai. Così. Fassili. Barricate la stanza. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Allora. Allora. Andiamo al quarto. Adesso barricchiamo. Che barca dove sto via. Ok. Il drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio. Si. E' un buon enorme. Prendiamo a fare lo spunkio. Anche se è rischioso. Ok. E' un buon enorme. Mancano cinque secondi. I nostri amici con il rinfino. Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Peccato. Lo potevo fare ma non l'ho fatta. Il drone dogma. Oh, guarda. Il drone. Oh, guarda. E' un buon enorme. C Avenginess Trigione. Oh, guarda. Prendiamo cosa vuoi con il nostro lavoro. Oh, guarda. Oh, guarda. Ok, 5-3 Ah, cacchio, l'ho visto dopo Taccimia Aspetta, non so come No Aspetta, vi aiuto con la camera Non posso più aiutare Grande, dai ce la potete fare Grande, e si vince E si vince Mamma mia che partita Partita molto combattuta Però noi ce l'abbiamo fatta Vittoria sofferta Ci siamo cavata con 5 kg e 5 assist Le morti potremmo fare un po' meno Però l'importante è che abbiamo vinto Vediamo se abbiamo preso il pacchetto Allora ragazzi, questo episodio può finire qui Lasciate un like se vi è piaciuto i video Iscrivetevi al canale E ci vediamo al prossimo video And on and on We'll go Ciao 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 Grazie a tutti.